Carissimi amici di Filmamo, la vostra prof dell'horror è qui al premio Amidale di Gorizia e ha incontrato lo scrittore e sceneggiatore di numerose pellicole horror Antonio Tentori. Proprio qui nel pomeriggio è andato in onda un gatto nel cervello, uno dei suoi numerosi lavori insieme al grandissimo Lucio Foci. Antonio, tu hai lavorato con grandissimi nomi del panorama del cinema horror italiano, per quanto riguarda le tue sceneggiature è sempre andato tutto liscio oppure c'è stata qualche differenza qualche volta, qualcosa che ti ha un pochino infastidito? Beh ovviamente non è che va tutto liscio per quanto riguarda le sceneggiature, non è così facile, ossia devo dire che tutto sommato non posso neanche lamentarmi troppo, nel senso che diciamo le cose sono andate sempre abbastanza bene, però in certe occasioni chiaramente possono esserci state delle, non dico interferenze ma degli interventi da parte per esempio di un produttore, ovvero anche del recista stesso, per diciamo fare delle modifiche, fare degli spostamenti, aggiungere dei personaggi, ma questo è anche abbastanza normale, soprattutto in un certo tipo di film che sono quelli che scrivo io, che comunque sono spesso suscettibili di cambiamenti anche all'ultimo momento, anche in fase di preparazione del film. Mentre invece c'è una sceneggiatura che ti è piaciuta veramente tanto scrivere e che il film è in qualche modo, gli ha reso una giustizia veramente al 100%? Ma forse ce n'è anche più di una, nel senso che comunque nel tempo sono riuscito a scrivere per vari registi, come dicevi tu, per esempio ho scritto un film che si chiama Franca 62000 per Gioia D'Amato, Risti di Massarcesi, ecco quello è piuttosto fedele diciamo a quello che avevo scritto al testo e anche Dracula è un di Dario Argento, è un film che è molto nel mio, rimane molto nel mio cuore proprio, anche Un gatto al cervello di Fulci, Vegeile di Bruno Mattei, insomma ce ne sono diversi, non ce n'è uno solo, sono diversi di film che credo che siamo stati fatti piuttosto bene, rabbia furiosa di Sergio Stiglietti, sì, un altro non ce n'è uno solo, ce ne sono diversi perché per fortuna anche questi titoli che ho detto i registi con la loro sensibilità sono riusciti appunto a trasmettere quello che io, quello che noi anche insieme naturalmente abbiamo pensato, abbiamo appunto ideato per poi finire quando c'è un bel team? Sì, esatto. Mentre invece passando ai libri, tu hai scritto anche numerosi titoli, ce n'è uno a cui ti senti maggiormente legato? Ma io ho scritto molti libri di cinema, soprattutto sul cinema italiano di genere, dal thriller all'orro, la fantascienza, fantastico diciamo, western, poliziesco e così via, però se penso ai libri io penso adesso, soprattutto penso ai romanzi, perché questi ultimi anni ho scritto diversi romanzi e soprattutto il primo, il bambino che giocava con le bambole, tra l'altro ha una precazione bellissima di Lamberto Pava, ecco quello, il romanzo thriller, l'ambiente da Venezia, questo è quello che sicuramente prediligo attualmente. Hai qualche consiglio da dare ai ragazzi che vogliono iniziare ad avventurarsi nella sceneggiatura, nella scrittura? Lavorare sempre, scrivere sempre, non demoralizzarsi mai, andare avanti alla propria strada, leggere molto, vedere molti film, perseverare, il lavoro è tecnica, professionalità, serietà, umiltà, bisogna andare avanti comunque, se ci si crede, perché per primi bisogna crederci, noi che scriviamo, il resto poi viene da sempre. È vero. Mentre invece del cinema horror attuale e anche internazionale e nostrano, che ne pensi? Io ritengo che l'horror sia in buona salute, ci sono molti film che escono, americani, italiani, ma anche francesi, europei, insomma, italiani un po' meno, però anche italiani stanno facendo abbastanza un buon numero di film tra indipendenti e non, io penso che la situazione in generale sia abbastanza positiva, dall'altro canto l'horror ha sempre passato periodi alterni di grande popolarità, di grande successo e anche di meno, di un caua anche di interesse da parte del pubblico. Penso che da diversi anni a questa parte ci sia un bel frammento, ecco, in senso generale proprio, internazionale. E tornando al cinema italiano, dopo la pandemia diciamo che ha subito una battuta d'arresto, che ne pensi? Come si può riuscire a riportarlo ai tempi che furono? È molto difficile riportare il cinema ai tempi che furono perché mancano proprio le condizioni, nel senso che per essere proprio molto concreti mancano le sale cinematografiche perché molti hanno chiuso in questi ultimi anni, poi con il Covid purtroppo c'è stata veramente una moria appunto ulteriore di sale in questo senso. Ciò non toglie che appunto non bisogna mica deparalizzarsi, nel senso che comunque il cinema adesso l'ha veicolato anche in altra maniera, le piattaforme, il mercato estero con un video che ancora non resiste e bisogna pensare a questo, bisogna pensare anche in altro modo, cioè poi che il film esca in sala va bene, ma non bisogna andare solo sulla sala, altrimenti si rischia appunto di andare incontro a delle delusioni abbastanza notevoli. E proprio parlando delle piattaforme streaming, pensi che un po' abbiano fatto perdere l'entusiasmo per andare in sala al cinema e vedere? Magari i ragazzi oggigiorno preferiscono la comodità a casa propria? Questo che dice è molto vero purtroppo, nel senso comunque è proprio subentrata l'edilizia, è subentrata l'edilizia soprattutto dal periodo del Covid e poi, sia le persone per smuoversi insomma di casa, sì lo fanno anche, magari soltanto per dei blockbuster, opera, qualche commedia forse. Insomma le sale si vedono, purtroppo ci vado spesso al cinema, tranne qualche volta, qualche fine settimana o così, sono abbastanza deserte. Non è bello questo in effetti. Ci hanno un po' impigrito, ci hanno un po' impigrito. Ci hanno un po' impigrito. La sala è la sala, il cinema è questo, è la sala cinematografica. Poi, anche se uno può avere il televisore più bello del mondo, non sarà mai come uno schermo cinematografico. Non c'è la stessa magia? No. Cari stiamo amici di Cimano, abbiamo finito l'intervista, è stato un grandissimo piacere di poter parlare con Antonio e ci vediamo presto per altre interviste. Ciao!